Io questa cosa la sparerei vicino alle orecchie di un lupo Cioè così clic 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 finchè non gli rompo i coglioni e mi lascia andare Se mi attaccasse Bene adesso vi godrete lo sbattimento di palle a tagliare la legna con me Allora dormiamo Oddio io non ho calorie di riserve la carne sta andando a male Piano Vuoto 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 Prendi dei bengala Piano Z Z X F Scendiamo un fuoco Vediamo quanta legna ho Ho abbastanza bastoni Scendiamo il fuoco Con l'accelerante Così non devo aspettare Sì ho i coglioni fracassati non riesco neanche ad aspettare Cuciniamo la carne di lupo Carne di lupo marinata Giugno il combustibile mettiamo ne Un'ora e sei Un'ora e uno Un'ora e uno Dovrebbe bastare Poi I liquidi pure sono un po' in negativo Lasciamoli tutta la legna qui Quanto siamo? Siamo almeno a 30 Siamo a 29 Carosene Carosene è il problema più grave Dovrò per forza andare alla barca Per forza Dormiamo un'ora Così la carne si cucina Poi forse mi faccio un energy drink Raccogli Esci fuori che magari il fuoco non si è spento Sperando Ok Questa è pronta Questa è pronta Sì tanto non ho Contenitori per Per farmi l'acqua Quindi lo lascio spegnere Non è un problema Adesso Dove che possiamo trovare Della legna Dei rami di cedro Questi sono bastoncini Non ci faccio niente con questi Ci faccio niente Me li infilo nel naso Per non dire altro Eh eh porcellone Forza Frantuma Ok sta iniziando a fare freddo di nuovo Però effettivamente ho anche Della carne essiccata Oh il freddo Oddio mio Oh il freddo Che paura Oh no Ho fatto Quel cartellone mi ha fatto Cioè Ho fatto prendere male Stupido cartellone Effettivamente sì Ma sono cretino Perché non mi bevo La bevanda energetica E basta Come fai ad avere sonno Hai appena bevuto La bevanda energetica E c'hai il sonno Sei rimbambita Sei rimbambita forte La bevanda energetica Cura metà Di tutta l'energia Per circa Quanto Per un po' di tempo Quanto Per circa 45 minuti E da Anche Una Una ricarica Alla barra Dello stamina Dopo Dopo quei 45 minuti Quando sarà passato L'affaticamento ridotto E L'energia extra Perderemo il 50% Dell'energia totale Parlo dell'occhio Intendo Della barra dell'occhio Diciamo che Come dire È uno Steam pack Lì Un'inizione di emergenza Un po' meno crudele È un po' meno efficace È un po' meno tutto Che però Dà 100 calorie Volete ammettere 100 calorie Ci possiamo andare avanti Red Bull Tecnicamente Ci vorremmo venire Ah e ti dà Pure l'emicrania L'emicrania Sarebbe tipo Il dolore Il mal di Vabbè Sapete cos'è L'emicrania Però dico È lo stesso effetto Del dolore Quindi vista Offuscata Un po' di rompimento Di palla Quella cos'è Quella che cos'è Ah sono degli alberi Caduti in modo strano Ok adesso Seguendo il fiume Dovrei arrivare Alla mia destination Quella è una caverna? Spero che ci sia Qualche orso dentro Sembrerebbe una caverna No Questo è un po' Se ci sono le ossa È un punto di spawn Per gli orsi Non fa neanche Troppo caldo Perché il vento Sta soffiando così Quindi fa un freddo cane Orso Non hai neanche scelto Una caverna adatta Sei proprio stupido E se ti becco Ti becchi E se ti becco Ti becchi una freccia Tra gli occhi Ok Non ti becchi niente Tra gli occhi Perché non ho più frecce Però Ho un bengala Una spara bengala Con Ok È partita l'emicrania Allora Allora Dura 20 minuti Non è niente di grave Oppure posso comunque Prendere degli antidolorifici Mi pare No 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 Invece no Vedi 20 minuti Di amicrania Sarebbero tipo Quasi un minuto Nella vita reale Io questa Questa cosa La sparerei vicino Alle orecchie di un lupo Cioè così Click 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 Finché non gli rompo i coglioni E mi lascia andare Se mi attaccasse Nella vita reale Questa è la casetta Ok Perfetto No Fammi raccogliere Questi moscelli Dormiamo un po' Nella casetta Per recuperare Della salute Un po' Di energia La salute È più importante Perché se voglio Tagliare ancora Della legna E soffrire di freddo Mi servirà Della salute Visto che sono sotto la metà Dormiamo un po' Magari C'è del cibo Che mi sono dimenticato Di cercare Letto Facciamoci Sei ore Sei ore politiche Di riposo A posto Come vuole Oh Bello Questa mi è piaciuta Oh Bello Questa pure mi è piaciuta Ok Qui non c'è nient'altro Ah no Sì 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 Strappa tutto Ho trovato tante accette Ma non ho trovato neanche Un coltello da cacciatore Se ci pensate Neanche uno Orribile sta cosa Ebbene gente È saltata la corrente Non so dove Caspita sono C'è stato il salvataggio Automatico Dove cavolo sono Vediamo Carica l'autosalvataggio No mi ha salvato qui Ultimo checkpoint Per orario Direi 1 e 27 Non ho la più Palla idea Di dove sono Ok Questo tronco Me lo ricordo Sono andato di qua Ho attraversato il fiume E sono entrato nella casetta Infatti ho riguardato Il video che ho registrato Ed ero entrato nella casetta E ho raccolto dei panni È rimasto salvato? No non è rimasto salvato Perché non ha salvato Quando sono entrato nella casa Non so quanto progresso Ho perso Del gioco Non ho la più Pallida idea Energia Oh congelamento Mi piace Ah se solo avesse Dei proiettini Che sta Ah la micrania è arrivata E non so Ho sentito un orgasmo Improvviso Eppure l'avevo appena detto Mi sta per arrivare La micrania E poi sento Ah Mi sono rimasto Un po' perplesso Dal rumore che ha fatto Dal gemito E dai Scavalca Una cosa che non mi piace Però Ha senso perché sarebbe Troppo abusata Sul terreno Ma non mi piace comunque Perché non ha senso Che non ci sia il salto In questo gioco Dovrebbe esserci La possibilità di saltare Non parlo di Un salto da Campione olimpico Però un salto comunque per Non lo so Farsi una scavalcata Del genere Ok aumenti il rischio Di frattura magari Però il salto Dovrebbe esserci Secondo me Invece questo gioco Non dà la possibilità Di saltare Ed è una cosa Che non mi piace Per niente Su dai Oh funghi Buono 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 Ah Conigli Bastardi Ah Ne ho visti Quattro lì Chissà lo sarebbe Aspettato Che ci fosse Il quinto Dai Non ho mai visto Cinque conigli Insieme Bugs Bunny Mi ha spaventato Porca miseria Che uomo coraggioso Che sono Addio mio Eccola qui L'abbiamo trovata Allora qui c'era Una tannica di Cherosene Ma lo ricordo bene Se solo l'avessi No Se solo l'avessi raccolta Allora Raccoliamo ste due lattine Dov'era? Era qua Quanto c'è? Un litro e quaranta Siamo a posto Raccoliamo anche Tutta la legna Che possiamo Secondo me Dovrei essere a posto Con la legna Quanto ho? Vediamo Quindici Quindi sono circa Un'ora e cinquanta No Sessanta Sì Sono circa due ore Di fuoco Tre ore No Non sono a posto Neanche da lontano Sono a tre ore Di fuoco circa Perciò mi serve Altra legna Raccoliamo della corteccia Così mi faccio Una bella tisa Vabbè Mi dovevo fare dei caffè Circa quarant'anni fa Questa l'ho cercata No l'ho cercato Sta valigia Incredibile Incredibile C'erano dei calzini Da arrampicata Dio mio Tieni sti calzini Non mi servono più Dove essere Uuh i guanti sono meno tre E deve essere stato Quel lupo bastardo Quando mi ha mozzicato Sì 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 Deve essere stato quel lupo Quando c'è stato Quando c'è stata La scritta Abiti strappati Deve essere stato lui Allora facciamo che Per sicurezza Me li tolgo Però adesso Le mie mani saranno esposte Al freddo E temo che ci sarà Il rischio di assideramento Di assidera Assideramentitazione Sì quando il corpo È esposto Direttamente alla neve Quindi per esempio Siamo a petto nudo Senza pantaloni C'è il rischio O senza calze Le calze bastano Ma se siamo anche senza calze C'è il rischio di assideramento Purtroppo Uh c'è il mio amico qua Ciao bello Spero tu stia Conservando quella carne per bene Visto che ci abbiamo I meno 23 Cioè è a lunga durata Questa carne Ah qui c'era anche la torcia Vero Raccolgo un chilo di carne? Sì Raccoliamo due chili di carne Quando ci metto poco E poi facciamoci una bella corsetta È perché non ho nient'altro da mangiare È un problema 47 Quindi dovrei anche cucinarla Se non andrà male In più ho recuperato anche l'energia Stando lì a tagliare la carne Quindi Ne è più che valsa la pè Vediamo Dov'è che posso andare? Intanto sto tornando al mio Al mio villaggetto La mia casa comunale Tra l'altro potrei lasciare Della carne cruda là dentro E prendermi Del cibo vero e proprio Perché non Perché non Perché non ci ho pensato Perché Perché il mio cervello non funziona Intanto queste quant'è? Sono 1800 calorie Prendo L'equivalente di 1800 calorie Dal frigo Dalla cassa delle risorse E sono a posto Direi Ah sono già qui Ah sono già qui Alla grande Ho visto il poligono di tiro Con l'arco lì Centro Il bersaglio dell'arco Poligono di tiro Non so che cavolo si chiami E mi sono accorto di essere Già nel Nel granaio Lupi non ce ne sono Visto che abbiamo sterminato L'intera popolazione Di pleasant valley di lupi Però è carino Dovrebbero metterli Vabbè in modo Il tenterlop È un po' meno carino Essere attaccati da Da dei timber wolf Anche perché sono molto più tosti E a meno che Non sia il colpo critico Non li uccidiamo Con una freccia Anche con un colpo in testa Penso che E poi si muovono molto A zig zag Come avete visto Sono davvero bastardi Sono davvero pericolosi Io Proporrei di tagliare Questo ramo di cedro Per tre ore di legno Forse Quanto ho di peso Più che altro Non è il peso Qua Assideramento Porca miseria Indosso Prontumiamo In questo Cedrino Sì Ceneval Sapia Intanto ho recuperato Energia E corriamo Verso Casa Adesso dovrei avere Sei ore di legno Quindi tecnicamente Tecnicamente Non dovrei avere Troppi problemi Però voglio cercare Di arrivare lì Prima di Perdere il buff Ben nutrito Se ci riesco Beh se non ci riesco Un'altra storia Ma io piuttosto Mi mangio Mi mangio Un pezzo di carne cruda Per quel che mi riguarda Mangio un chilo di carne D'orso cruda Pur di non perdere Il buff dei 5 kg Stai scherzando? Tanto sono pieno Gli antibiotici Mi faccio una bella Dormita di 10 ore Sono a posto Non ho nessuna merendina No non ho niente Non ho niente No 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 Non ce l'ho ce l'ho ce l'ho Mi ricordavo di averlo mangiato Eh però Mi si è spenta la luce Sai com'è Sai com'è I salvataggi Non sono stati salvati Alla fine Forza Forza Che ce la possiamo fare Mamma mia Ok Ci siamo Ci siamo Ce l'abbiamo fatta finalmente Ce l'abbiamo fatta Abbiamo il chiarosene Credo di avere abbastanza legna Quindi probabilmente Missione compiuta Un grattapalle in meno Questa cos'è? Ah carne di lupo Anche questa la metto in frigo Mi prendo del cibo decente Ok Tutto sommato Ci ho messo meno del previsto Oh mi mancavano le vostre tossi ragazzi Allora Cibo 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 Uno Due Tre E dammi questo Ridammi i miei fagioli Ridammi i miei cracker Ridammi Questo E questo E intanto io ti lascio Tutta la legna Dov'è? Dov'è? Uno Due Trasferisci tutto Trasferisci tutto Quanto siamo? Ok Mi manca solo il chiarosene Abbiamo finito Dov'è il chiarosene? Questa è l'1% Quindi la devo raccogliere Da cavolo è il chiarosene? No Perdi in cibacco Prima mangiamo No Non dove Mangia Mangia che mi ha già rotto le scatole Mangia pure questo Bevanda E bevanda Ok Con le calorie Direi che siamo a posto Poi Fammi Droppare il chiarosene Sempre che io riesco a trovarlo Oh Non dirmi che l'ho lasciato lì Oh Ordina per peso Oh c'è Tanica Oh Giuramento da ipocondriaco Ho sbloccato un achievement Ok Missioni Tempeste in arrivo Parla con padre Thomas Fatto 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 Ah si è spostato Ma si è teletrasportato? Ciao bello Vuol fare il discorso di gruppo? Vuol fare l'annuncio Oh Meno male C'era dall'acqua E neanche l'ho vista Vai Frank Che succede? Cosa ti affligge? Per ora Buono sapersi Mandandami meno lupi Penso Vero? Grazie Ok Ok Che cosa mi considera? Perseverance mills Perseverance mills Quindi ci salutiamo Vai Io accetto sempre I consigli Non sta parlando di religione adesso Vedi Qualche intende che magari dovrebbe farsi aiutare da Will Mackenzie Dirgli la verità Non sta parlando del signore Ma Ok E niente No no Lo farà tenere Secondo me ci aiuterà questo crocivisso in qualche modo Chissà come Ma ci aiuterà in qualche modo Capitolo 4 Conseguenze Beh abbiamo completato Il salvataggio di tutte queste persone E' partita la bufera Come da script A quanto pare Perché finora C'era tempo calmo Ora è partita la bufera A quanto pare io devo raggiungere La miniera Non so quale sia la strada Perché non è indicata sulla mappa Lascia la sala comunale Quindi uscendo dalla sala comunale Dovrebbe partire un'altra scenetta Se non sarebbe già stata indicata sulla mappa La strada per la miniera La via per la miniera Comunque Grazie per aver guardato fin qui Riconnettetevi al prossimo video Dove vedremo come continua questa storia Ovvero il capitolo 4 Ricordatevi di lasciare un like Un commento Magari iscrivervi al canale E condividere con i vostri amici La vostra opinione conta molto per me E vi auguro una bellissima serata Bella bella